Ennesima presa in giro per i residenti di Ostia Anticasaline che ormai da quattro anni lottano contro il proliferare di antenne nei pressi della propria abitazione. Secondo il racconto di alcuni cittadini, infatti le antenne contenute nel sigaro killer di via Bonucci, così come lo definiscono, sono state potenziate. Enorme la preoccupazione dei residenti che si sono dati appuntamento questa mattina in via Bonucci, poi rientrata forse grazie all'intervento dei vigili interpellati dall'assessore ai lavori pubblici Antonio Caliendo. Anche se alcuni dubbi restano, visto che a seguito di analisi si è parlato di manutenzione ordinaria e non di un potenziamento dei ripetitori, anche se gli stessi cittadini hanno visto installare nuove strutture di metallo. La situazione va avanti ormai da quattro anni e sta diventando sempre più pesante. In questi giorni abbiamo visto degli operai che hanno comunque aperto l'antenna e hanno installato nuove antennine. Ci dicono che sia telecom per potenziare il segnale 4G. Noi abbiamo delle difficoltà in questo territorio perché qui ci abitano comunque nel raggio dell'antenna decine di bambini, abbiamo avuto due o tre casi di morte per forme tumorali e cosa ancora più grave è che vive un bambino qui a 200 metri, Daniele, che vive con una macchina elettromedicale che lui respira solo con quella e spesso la notte la macchina va in difficoltà per la potenza del segnale. Il bambino rischia spesso di rimanere senza ossigeno. Abbiamo fatto adesso rimostranze al municipio, abbiamo chiamato ieri le kit di competenza, ci hanno detto che è un lavoro di ordinaria amministrazione, poi sono arrivati i vigili chiamati da Caliendo che hanno fatto un sopralluogo e ci hanno detto che il lavoro è tutto regolare, le autorizzazioni sono tutte regolari, lavoro di sostituzione o comunque di modifica di situazione di segnale. Allora, una normale manutenzione sta nel sostituire completamente delle antenne, cioè antenne cilindriche normali sono state sostituite con delle barre bianche lunghissime e abbiamo tutti i motivi di pensare che si tratta di sostituzione di antenne con le antenne più potenti. Quello che noi dovremmo fare attraverso, con l'amministrazione, è riuscire ad avere un documento, quindi il piano delle antenne che preveda delle distanze minime di precauzione che ad oggi non esistono. Le antenne stanno a 20 metri dalle altre case in questo caso e non è un'antenna. Parliamo di una quantità notevoli di antenne e per questo anche nascoste. Come padre di famiglia, come cittadino, vedo con molto timore il proliferare di queste antenne di telefonia mobile. Vedo con ancora più timore il fatto che per iniziativa del governo addirittura si vogliono alzare i limiti di esposizione alle radiazioni elettromagnetiche, alle onde elettromagnetiche che vengono considerate accettabili e quindi non pericolose. Così con un tratto di penna a un certo punto si decide che ciò che ieri era considerato pericoloso adesso invece viene considerata una esposizione normale, accettabile. Ecco, tutto questo io credo che non invece non lo sia accettabile e che tutti quanti invece dovremmo essere molto preoccupati da questa proliferare di antenne di telefonia mobile. Faccio presente che in altri paesi semplicemente si cerca di delocalizzare queste antenne in luoghi non abitati utilizzando un po' l'effetto moltiplicatore della copertura che comunque assicurerebbero a tutto quanto il territorio circostante. Qui invece li si mettono ovunque, nei centri abitati, ovviamente rispondendo a delle logiche che non sono quelle della salvaguardia e della salute delle persone. Immediato l'intervento della Commissione Ambiente del Decimo Municipio, preseduta dal consigliere Eliseo Franzese, come ha tenuto a sottolineare Romina Rulli, collaboratrice della Commissione, che per il prossimo fine settimana ha organizzato gazebi per una raccolta firme contro l'innalzamento dei voltmetri, dai 06 ai 61, come stabilito dal Governo. Lunedì prossimo alle 15 sotto il municipio ci sarà un incontro con una raccolta firme in merito dell'eservatorio elettrosmog. Speriamo che la gente partecipi e si faccia responsabile di questa situazione, che pensiamo che sia importante e utile per tutti.